Musica Dikit cerita serbatian di tongos megai nejangi Rasamah kelone matkuli tetap buka kene ni Di warung mutani di kantor kasbol sesami Apakah yang nyalah rasa di tongos megkuli Apakah ada cara tiang jani makanan Gajek bedek gaedek li Si cocoknya Jadi tiang nyaman Dan tinggal hanya Pak Bos Pak Bos Dan tolongin je Gajek bedek gaedek di tengah ini Pak Bos Pak Bos Seng sanggup dia Gali lo panggung temen lo panggung Pak Bos Pak Bos Gajek bedek gaedek gaedek di tengah ini Maksud Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. e lo faccio sì va va Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.